Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia e studio Roberto Di Giacomo. Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restricimenti. Percorse alternative sulla provinciale 12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada 11. A Firenze in via Tripoli per lavori la strada sarà chiusa nella giornata di lunedì dalle 9 alle 21 nel tratto da via delle Casine a piazza Cavalleggeri. Moersi Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!